L'evento tra gli altri è stato organizzato anche dall'associazione Pizzaioli Garganici, di cosa si occuperà e in che modo verrà portato avanti questo evento? L'obiettivo principale è quello di sponsorizzare e quindi dedicarci un pochettino alla dieta mediterranea, ma l'obiettivo è quello di cercare di non limitarci più noi come pizzaioli a vendere solamente il nostro prodotto ma cercare anche a comunicare, cercare anche un pochettino a far capire alla gente cosa sta mangiando e che tipo di prodotto a chilometro zero, comunque prodotti del territorio, stanno in quel momento degustando. La serata sarà formata da un insieme, una carrellata di pizze del territorio, pizze gourmet, accompagnate da vini locali e successivamente resa particolare da nutrizionisti, dietologi che spiegheranno cosa stiamo mangiando e ci saranno anche personaggi del mondo politico e anche personaggi della cultura, della tradizione, quindi oltre alle cantine ci saranno anche produttori del nostro territorio.